De Francesco, allora innanzitutto commentiamo questo successo importante per la Regina, ottava vittoria in campionato, imbattuti e capolista. Vi siete confermati così, anche quest'oggi al partenio Lombardi, in una partita molto difficile e dai toni agonistici accesi. Sì, è stata una partita complicata come ogni partita di questo girone. Siamo contenti di aver portato a casa i tre punti perché è il nostro obiettivo partita dopo partita. Dobbiamo continuare così, ci dobbiamo godere questo momento ma già da domani avere la testa alla partita di domenica perché una volta vinto la partita non si gioca più ma si gioca la prossima e quindi quella è quella più importante. Nel calderone degli episodi abbiamo detto di un sospetto tocco di braccio di Janes, mettiamo tutto in questo calderone così come l'ho definito. Soprattutto però contestato il vostro secondo gol che è stato innescato da una tua giocata. Si è andato via di forza alla Ezza, secondo l'Avellino troppa forza. Allora, visto che sei il protagonista dell'azione ti chiedo di raccontarci. No, secondo me non è fallo. Giuliano ha provato a proteggere la palla, sono stato bravo e scaltro e siamo riusciti a far gol. È un contrasto di gioco come altri, secondo me non era fallo. Una partita speciale questa per il tecnico Domenico Toscano. Cosa vi ha detto in settimana in avvicinamento a questa gara? Al di là della retorica non era una partita come le altre. Ogni partita ha le sue difficoltà, ha le sue insidie. Quindi abbiamo fatto la settimana come ogni settimana affrontandola al massimo, analizzando le qualità e i difetti dell'Avellino e cercando di mettere in campo tutte quelle che sono le nostre qualità e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Angelo, allora un paio di domande flash da studio, così liberiamo De Francesco. Grazie ancora all'ufficio stampa della regina. Ti chiedo di adagiarlo all'orecchio qualche secondo e ascolterai. Angelo Giuliani da studio. Prego Angelo, tutto per te De Francesco. Ho solo una domanda per De Francesco, così agevoliamo anche il lavoro. La regina mi sembra che in questo avvio di campionato, avvio poi mica tanto perché già se ne sono andate 12 giornate, abbia avuto rispetto alle dirette concorrenti per la promozione un'arma in più che è la continuità. Al di là del fatto che siete imbattuti, però avete sempre avuto continuità, a dispetto di squadre come Catanzaro, Catania, il Bari che è partito male, la stessa Ternana che ha perso due partite in casa con Avellino e Monopoli. Voi invece sempre bene, insomma, otto vittorie e quattro pareggi. Sì, la cosa che vogliamo che ci contraddistingue è appunto fare sempre la prestazione. Poi il risultato è figlio di tante cose, però l'importante è che ci sia sempre la prestazione e in queste giornate fino ad oggi c'è sempre stata e quindi i risultati sono una conseguenza della prestazione. Senti, mi chiami un'altra domanda, allora te la faccio, ma il Granillo è uno stadio che abbiamo visto per tanti anni desolatamente vuoto, ha fatto anche un po' di tristezza vedere una città come Reggio Calabria, che ha conosciuto la Serie A, finire così in fondo. Invece adesso c'è un ritrovato entusiasmo, il Granillo si sta riempiendo di nuovo. Questa comunque è una bella iniezione di fiducia anche per voi. Assolutamente sì, noi siamo orgogliosi di avere tutta questa gente allo stadio perché è gente che vive per questa maglia e spero che in questo momento lo siano anche loro di noi e cercheremo di continuare così.